Nel congresso di Vienna si confrontarono due linee politiche contrapposte, coloro che... No scusi, dica Marangiolo. Non mi sento tanto bene, vorrei restare in chiamata ma proprio non ce la faccio. Seriamente? Sì prof, glielo giuro, non glielo direi altrimenti, non mi sento bene, posso uscire. Oddio Marangiolo mi spiace, si riguardi e mi faccia sapere. Certo prof, grazie per l'interesse. Arrivederci. Yepa, un, due, tre, ora si va a giocare a Fortnite, andiamo. Fai così e andiamo, andiamo a vincere todos. Vai, vai. Ma chi è questo? Oh no, ma mi è ammazzato, ma bastardo, bastardo infame, ma chi sei? Eccomi Marangiolo. Prof. Ma lei non era quello che stava male? Ecco io mi sto riprendendo. Chillato e mazziato, shh, a casa. Però scusi ma non è giusto? Ah non è giusto, allora oltre che al kill, le metto anche in due. E come due, e come due. Ci vediamo a Borgo Bislacco, scarsone. Ma va a cagare, dai. In senso più ampio, per restaurazione, si intende il movimento relazionario teso a... Alf, io vado un secondo in bagno, arrivo subito. E il permesso? Per andare nel mio bagno. Cosa devo farle, l'autocertificazione? Mannati, non faccia il simpaticone con me. Io sto spiegando. Lei sta qua e mi ascolta. Ma pensa a te questo, ma pensa a te, ma è casa mia, il bagno è mio e devo chiedere il permesso a lei. Ma non esiste, io sono il padrone di casa. Ne hai proprio sicuro, Mannati? Ma che cosa ci fa più prof? Lo chiede a sua madre. Mia madre, ma che... Mamma! Non ti ricordi? Mi piacciono i pelati. Ma io pensavo ai pomodori, porca tro... Marangiolo, oggi la interrogo. Riattivi la videocamera. Bene, mi parli della seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale fu un conflitto iniziale. Marangiolo! Cosa? Ma sta doppiando sua nonna. Mia nonna, va bene che la quarantena va avanti da un po'. Ma non sono mica così vecchio. Ma non mi prenda in giro, lei è chiaramente sua nonna. Ma cosa fa, piange? Sì, è tutta la vita che mi dicono che ho la faccia da vecchio. Ma lei è un bullo. Oddio, scusi, Marangiolo, io non volevo. Io pensavo fosse sua nonna. No! Lei è un tiranno! Davvero, Marangiolo? Cosa posso fare per essere l'ultimo? Mi dia sette, anzi otto. Va bene, le do otto. Otto schiaffi se non la smette di prendermi in giro. Adesso basta, mi sono stancata. Li metta otto. O la spacco di botte. Sì signora, si carmi, gli do otto. Nove! Dieci! Bravo! Mannati, io non ce la faccio più con lei. Durante le mie lezioni continuo a cazzeggiare col telefonino e non ascolta una singola parola di ciò che dico. Prof, non mi sfidi. Come prego? Io sono un rapper. Ah sì? E dove si esibisce? Su TikTok. Ah ma lei allora è un vero rapper trasgressivo da strada. Esatto. No, ma andatemi, scusi io. Senti bene prof? Uh, le video lezioni mi fanno cagare ma tu un po' di più. Uh, mi vuoi far studiare ma io preferisco le serie tv. Uh, sei lento o noioso mi dai sempre due e non ce la faccio più. Uh, mio nonno è più bravo ad usare lo smartphone e pure YouTube. Uh, hai più capelli che neuroni quindi cosa minchia parli? A letto come nelle tue lezioni c'è tua moglie che vorrebbe addormentarsi. Frate non sono il tuo leccaculo, facciamo un patto che è un po' paraculo. Io da oggi studio come un muro, tu da domani te ne vai a fanculo. Niente male mannati, niente male. Grazie prof, grazie. Ha finito? Posso rispondere? Prego, prego. Mi faccio domandare ciao! Mamma! Ancora? Te l'ho detto che mi piacciono i pelati! Oh, è già diventa così oltre a darle male. Eccomi prof, scusi l'ha saltato il collegamento. Allora, vediamo un po' Ragozza interrogata Come interrogata? Prof, io Non ho studiato niente Come non l'ha studiato? Come posso fare? Eh, vabbè, non si preoccupi Vedi, prof, è che A me tutta questa situazione mi rattrisse tantissimo Allora io magari avevo pensato che lei Potesse, non so, rimandare la mia interrogazione Certo, certo, quando vuole Lei è un grande, è proprio un angelo Ma non ringrazio, ma è tutto merito del suo meraviglioso cu... Cuore Bello sodo Bene ragazzi, basta chiacchiere, ora si passi fatti Interroghiamo Oh Dan Dan Invita lì Ora sì, ok Eh beh, buongiorno a tutti Ma chi è entrato nel mio chat Sì, buongiorno Siamo delle tenute babudoglio Ma chi siete? Cosa volete? Allora sì, volevamo avvisarvi Che da oggi facciamo anche consegna a domicilio Ma cosa me ne frega a me? Ma io sto lavorando Perché qua i bottoni ci stiamo ballando Ma oh Vabbè ma cosa consegnate? Pecorino, casizzolo, culurgione, pane carazzo, pane guttiato Ma siete sardi? Di vista sardi siamo Anche io Anche io Anche io E la beviamo Ma il filo verro? No, ce lo siamo scordati No, no, no Secondo voi ci dimenticavamo il filo verro Perfetto, passiamo alle interrogazioni Marangiolo, tocca a lei Ciao maestro Ma cosa sta facendo Marangiolo? Non è mica carne male Marangiolo non c'è Ha avuto un problema di squarao Però ci sono io Il suo fratellino Marangiolino Marangiolino Ma cos'è sta pagliacciata? Dai per favore, ritorni in sé Eh, siamo pelato Ma che rispetto eh Marangiolo Marangiolino Marangiolino Lei non mi deve mancare mai di rispetto Intesi? Sennò che cosa fa? Mi piccia quei capelli La boccio Eh, non può Tanto promuovono tutti Pelato, ingolato, pelato Ah sì? Ok, non posso bucciarla Ma posso sempre chiamare sua madre Professore Ma che piacere rivederla Ma sa che è proprio spedendo La troppo dimagrita Bravo Marangiolo Mi lecchi il culo Me lo lecchi per bene Bene ragazzi Siccome tra orari e compiti da fare Vi vedo un po' stressati Ho deciso di concedervi qualche ora un pochettino più leggera Con le video lezioni di religione Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Guardi professore non pensavo potesse cadere così in basso Adesso preghiamo tutti insieme Ma che preghiamo? Alleluia Alleluia Ma perché? Vabbè sti cazzi almeno uno interroga Alleluia Alleluia Oh ma perché non siamo su Radio Maria qui? Alleluia Perché non siamo a lezione con Paolo Brosio Alleluia Vabbè ma io ci rinuncio Ah che cagare E ciao a tutti amici Se vi è piaciuto mettete un bel pallice in su E arriviamo a 200.000 like E ricordatevi che se non vi iscrivete siete dei pelati bastardi Ciao Poi andare via da qui E me cho io adesso qui Oh yeah Eeeh 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 Eeeh